è giovedì e anche nel mondo di l'orcana se uno dice giovedì dice pop talk e quindi questa è la puntata 56 terza stagione io sono mario petillo come sempre grazie per essere qui ad ascoltarci se lo state facendo da spotify indifferita grazie se siete qui con noi in diretta su twitch stasera parliamo di disney l'orcana l'orcana cos'è per chi non lo sapesse perché effettivamente mi capita che qualcuno ancora non sia molto a conoscenza del nome l'orcana e a me sembra quasi che però stiano vivendo in un'altra galassia in un altro universo l'orcana è il gioco di carte collezionabili di ravensburger basato sull'universo disney quindi abbiamo i personaggi della disney che si ritrovano tutti insieme a combattere tra di loro per raggiungere questi 20 punti l'or l'obiettivo finale per poter assegnare la vittoria a uno dei giocatori possibilità di giocare non solo uno contro uno ma anche in multiplayer quindi diverse possibilità di andare a declinare un gioco di carte che cerca di trovare la propria dimensione il proprio spazio in un mercato che è già abbastanza dominato da magic the gathering e tantissimi altri giochi di carta stasera però io voglio parlarne con tre particolari esperti che ci daranno e mi daranno perché alla fine sono un giocatore in erba ho appena cominciato e soltanto due sere fa ho vinto la mia prima partita quindi figuratevi un po' come siamo messi ma stasera ho scelto tre persone che possono raccontare meglio di me non solo il fenomeno ma in qualche modo anche andare un po' più a fondo di quella che è la situazione di l'or cana in italia perché è giusto che voi sappiate che le carte di l'or cana fino alla seconda espansione non sono state tradotte in italiano ma sono disponibili solo in inglese o eventualmente in tedesco se volete ma dalla terza in poi arriveranno anche in italiano quindi qualcosa si sta possibilmente muovendo per parlarne stasera non potevo non affidarmi a quello che su youtube è un po' il guru anche se la parola guru ultimamente non sta facendo proprio cose eccezionali sul web ma è il guru dei giochi di carte collezionabili e quindi do il benvenuto all'arconte arconte signori buonasera grazie infinite mario per l'invito grazie a te marco per essere qui con noi stasera con te parleremo stasera di tutto quello che riguarda l'or cana quindi cercheremo di spiegare anche in maniera molto semplice come funzionano un po' le regole senza andare troppo nel dettaglio anche se in realtà è abbastanza semplice quindi possiamo riassumerlo in maniera abbastanza immediata e poi andremo anche a raccontare un po' com'è la situazione attualmente di l'or cana in italia ti chiederò di raccontarci un po' la tua esperienza come ti sei avvicinato a questo fenomeno e poi insomma piano piano andremo a scoprire quanto più possibile do il benvenuto anche agli altri due ospiti so che uno dei due è itinerante ma riesce a collegarsi stasera nonostante il suo essere in giro in viaggio ma per l'or cana si fa questo ed altro quindi ringrazio ivan diana per essere stasera qui con noi ciao ivan ti ho aggiunto ma mi sa che ti sei frizzato quindi ho sbagliato il timing e quindi in attesa che si sfrizzi che si sfrizzi il buon ivan do il benvenuto invece a gaetano milici ciao gaetano in arte tanino che è reduce da un quinto posto in top 8 a un torneo di l'or cana quindi giocatore effettivamente lanciatissimo che potremmo quasi dire visto che non penso ci sia una scena così florida e forte praticamente sei nella top 8 d'italia adesso di l'or cana è un po una butade però magari può essere anche vero beh in quel torneo sono 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 stato top 5 quindi va bene così va bene così ivan si è sfrizzato quindi ok possiamo fare entrare anche ivan ciao ivan ti ho già fatto la presentazione te la sarei persa perché rifrizzato quindi puoi entrare a gambattisa su di noi senza problemi grazie per essere qui va bene grazie a voi grazie mario per l'invito buonasera al conte ciao tanino molto bello essere qui piacere nostro piacere nostro scusate ma sono sono fuori casa quindi wifi adesso mi sono organizzato tranquillo nessun problema allora ragazzi entriamo nel vivo della questione arconte un po di chiacchiere sull'or cana che cosa è che cosa vuole fare e quanto può essere difficile o più semplice rispetto ad altri giochi di carte a me quando chiedono di spiegare l'or cana mi viene da dire che è un po un magic semplificato molto semplificato però magari tu adesso sarai più tecnico più che magic the gathering che è un gioco completamente a parte dove ovviamente ogni singolo tcg si ispira perché è il primo in assoluto direi che è più simile a keyforge ed è per questo che io dico sempre in maniera molto scherzosa è il keyforge per keyforge for dummies perché se keyforge ha una piccola componente di difficoltà per l'or cana è veramente semplicissimo prendere un mazzo di carte e giocare quello che dico sempre è che la ramensburger quando agli albori ancora non era uscito il gioco aveva garantito che il gioco sarebbe stato all'altezza e alla portata di tutti ha mantenuto le promesse perché è davvero un gioco che ha la portata di tutti e per quanto mi riguarda è un ottimo entry level per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sconfinato universo dei giochi di carte collezionabili della serie vuoi iniziare a giocare a yugioh pokemon magic cito i tre più grandi o one piece che adesso sta andando fortissimo ti consiglio di iniziare con l'or cana perché è un gioco che ti dà una dinamica molto più ristretta ma che ti introduce sicuramente a questo meraviglioso mondo che sono i trading car game tanino la tua esperienza da giocatore a questo punto perché allora cosa succede nella testa di una persona che la mattina si sveglia e dice adesso divento un giocatore di l'or cana per me guarda è abbastanza scontato perché io vivo di disney da da quando sono bambino quindi quando ho saputo che stava per arrivare un gioco di carte collezionabili nel mondo dell'universo disney ho detto vabbè comprerò qualsiasi cosa esista nell'universo che sia stata prodotta e pensata e se poi c'è anche da giocare tanto meglio perché mi diverto io che non sono assolutamente un giocatore di carte collezionabili ho giocato a airstone però insomma capite che era insomma molto più semplice e immediato alla fine essendo un videogiocatore mi ci sono trovato anche abbastanza rapidamente però non ci ho mai capito niente di magic quindi approcciare adesso l'or cana sembra aver fatto un passo in avanti incredibile sì cosa cosa nasce io sono un giocatore praticamente da quando ho imparato a leggere inizio da giocare è iniziato con pokemon come penso tutti i bimbi nati nei primi anni 90 poi lo step è stato giustamente gli udio ho fatto le mie lego ho fatto qualche farò un tour ho fatto qualche evento mi sono sempre divertito nella competizione del gioco di carta che per me è il mio sport grazie all'amore che poi purtroppo yugioh viene preso quasi almeno ai miei tempi i miei ormai tempi d'oro quando ero sbarbatello yugioh era preso più come un gioco per ragazzetti e poi si passa al gioco dei grandi c'è magic magic è stata una parentesi croce delizia meravigliosa ma allo stesso tempo è stato impattante come come persone come giocatore però mi ha portato anche una meravigliosa compagnia qui a me alla mia sinistra che mi ha portato ad avere questa collaborazione questa amicizia con ivan abbiamo io ho giocato a tutto addirittura penso che l'arconte riconoscerà tutti addirittura ho toccato antico toccato wizard of mickey tocca i world of warcraft che il giocatore che ha vinto il torneo ci siamo scoperti poi che nel multiverso ci siamo conosciuti perché eravamo nello stesso evento di un qualificato per un nazionale ad ancona nel 2011 erano nella stessa stanza solo che vedete il giro gigantesco avuto poi una brutta fine world of warcraft purtroppo forse perché doveva passare ad arston ci siamo guardati gli evan abbiamo detto ma sai che disney perché no proviamo sicuramente un gioco più semplice di alcuni però secondo noi il potenziale è forte ci sono delle prime interazioni già dalla seconda espansione si sono create dell'identità di gioco con la terza espansione si pensa che sarà la consacrazione di un meta vero e proprio ho provato anche one piece molto bello come gioco mi piace anche il fatto che sia un best of one però devo dire è sicuramente attualmente troppo presto per parlare nella totalità però secondo secondo noi è un gioco che attualmente ha della semplicità nell'enti level però sarà già si è visto un percorso competitivo che ci sarà il 2024 secondo me la Ravensburger sta facendo le cose si sta muovendo nel giusto modo per fare diventare questo gioco un competitor interessante ivano quanto effettivamente pensi che queste affermazioni possano essere veritiere perché voglio fare l'avvocato del diavolo io fino ad oggi vedo solo un acquisto compulsivo da parte di tantissime persone ho visto anche un po a settembre mi ero soffermato in alcune piccole piccole ad esempio a fermo mi ero soffermato a vedere che c'era una vendita di carte singole che magari a volta era anche un po esasperata rispetto a quelli che poi sono stati valori effettivi delle carte quindi ai miei occhi per adesso sembra quasi più un acquisto compulsivo per trovare la carta del personaggio che piace di più magari io voglio tutti i James hook di questo mondo qualcun altro vuole tutti i Jafar di questo mondo però forse manca ancora un'attenzione a quello che è appunto il meta adesso giustamente Gaetano dice si verrà a creare con la terza espansione però davvero possiamo andare a credere che Ravensburger riuscirà a mettere in piedi qualcosa di concreto allora la domanda è molto interessante e bisogna un attimino splittarla in due grosse tematiche il primo riguarda l'acquisto compulsivo questo è dovuto o comunque è stato motivo solo di una cosa che comunque in Italia il prodotto non c'era e c'è una sorta di io la chiamo eco charizard perché col tempo il charizard della prima edizione vale tantissimi soldi quindi in ombra del fatto che questo eco possa accadere anche con un prodotto che però non è un prodotto qualsiasi è un prodotto della Disney quindi stai parlando di cose grosse tu dici caspita però il day one la prima edizione la prima carta firmata la prima promo fra x anni siccome comunque sono relativamente giovani no può essere il primo charizard del 91 quello che tutti abbiamo scambiato ma non sapevamo che un giorno avrebbe preso quel valore quindi l'acquisto compulsivo se non è dato non solo da una piccola percentuale di persone che ha detto di cioè fa parte della dell'essere fan della Disney quindi sfegatati del di questo mondo fantastico dell'immaginario ma un'altra parte invece è stato anche un pochettino più imprenditoriale quindi faccio la mia collezione faccio la mia first edition che poi alla fine la first edition non c'è o comunque si può riconoscere con alcuni metodi parlando di box chiusi mentre la seconda parte dell'area riguarda appunto la ravesburger come quando riesce a creare un qualcosa che non è solo di passaggio allora io e Tanino siamo allineati sul fatto dell'idea che la Disney si mette in gioco non lo fa per fare una parentesi assolutamente cioè la vedo come una grossa Microsoft però far parte di un altro ambito cioè ha del potenziale veramente forte e non credo che muove tantissime risorse per fare questo gioco solo per x anni o comunque per rimanere per dire l'ho fatto quindi io credo crediamo fermamente che non si fermerà qui e cercherà comunque di vedere come sviluppare non solo il lato collezionistico ma anche competitivo quello che hanno detto prima i ragazzi siamo ragazzi perché penso che sia l'arconte che Tanino è correttissimo cioè il gioco si approccia a un livello molto facile ed è giusto così perché secondo me la Disney è stata molto furba ha detto io mi guardo intorno a tutti i TGC mi dico perché sono falliti perché alcuni continuano perché alcuni giocano e che cosa ha fatto secondo me ha messo tutto insieme e ha tratto una direzione funzionale cioè io penso che la Disney non casca dal pero l'unica mossa sempre se non sia commerciale è che la Valesburger non riuscire a stare addietro nelle prime edizioni ora vediamo nessuno lo sa perché vuol dire vabbè faccio poco prodotto così c'è l'hype di comprarlo e di trovarlo in modo tale da infiammare l'eco charizard di prima questo è un po comunque il mio filone di pensiero a riguardo volete spendere qualche parola su l'orcana lab giusto per fare un piccolo inciso una parentesi prima di proseguire con altre domande da interrogatorio mi raccontate ci raccontate come nasce il progetto l'idea cosa c'è dietro entriamo proprio nei fatti vostri ma costretto io semplice 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 allora io non ero intento a creare un canale youtube perché l'ho avuto piccolissimo e c'era un grandissimo lavoro dietro di fatti non perché qui mai e tanino diciamo sempre l'arconte si fa veramente così perché il lavoro che c'è dietro tra post produzione registrazione e tutto diciamo madonna noi siamo in due tanino un giorno a marzo di quest'anno disse la disney sta per fare un nuovo gioco di carte collezionabili io dissi ok però cosa vuoi da me e lui disse no dobbiamo assolutamente coltivare io ci credo dobbiamo fare un canale youtube tu già l'hai fatto io ci metto la faccia e tu la la produzione però faccio parlare anche tanino perché poi lui è l'enfasi del del nostro team diciamo non è vero intanto complimenti perché ti trovo benissimo davanti alla telecamera solitamente sei dietro la telecamera e si poi la storia ci racconta che questa è la versione che diciamo poi c'è stata una l'ho proprio preso e caricato e ho detto non ti mollo finché non mi dici sì e alla fine siamo qua c'è stata tanta insicurezza ma poi penso che sia una cosa normale c'è stato tutto il processo il processo in cui ci galvanizzavamo per qualunque tipo di di prima volta il primo commento la il primo messaggio che ti arriva la prima persona che ti chiede un suggerimento su qualcosa la cosa che qui tenevo particolarmente e che gli disse a ivan cavolo perché poi la cosa che funziona in questo team fatto nelle due è che siamo uguali nelle cose che contano e totalmente diversi nelle cose in cui conta di meno quindi quando io sono più giù di morale lui riesce a tirarmi su e questa è una squadra che vince e spesso e volentieri accadevano che ai primi tempi le prime cose come facciamo come iniziamo il prodotto non c'è non sappiamo di cosa dobbiamo parlare stiamo parlando delle dell'aria fritta perché non sapevano nemmeno il regolamento avevamo deciso di portarci avanti e iniziare a fare video due mesi prima circa dall'uscita del gioco e ancora non c'erano neanche i regolamenti quindi andavamo molto su creare più un contenuto di intrattenimento per cercare già di iniziare a creare un minimo di community dopodiché la gente comunque si è si è incuriosita e ed è andata fino adesso è andata abbiamo avuto le nostre soddisfazioni poi giustamente ivan ha fatto un preambolo correttissimo la mia fortuna perché parlo per me in questo caso e non per il canale per la mia fortuna avere un socio del genere perché io penso che da solo non avrei concluso niente e poi una grande differenza che mi ha spinto anche a dire facciamolo è che comunque noi siamo entrambi i giocatori quindi quando sei il giocatore al di là di una persona che decide di parlare solo di questo tendi a dare un qualcosa in più un'emozione un episodio da raccontare diciamo che il personaggio di tanino mi ha convinto a dire ok facciamo altro al buio perché sfido magari non so se l'arconde può raccontarci di un'esperienza passata dove altri giochi che erano stati annunciati magari erano al di sotto le aspettative anche materialmente cioè noi non sappiamo le carte di l'orcana se erano di una buona fattura se l'artwork erano belle se erano coinvolgenti cioè noi siamo andati completamente al buio abbiamo fatto l'in solo su un argomento come è giusto che sia in base al nostro criterio di canale infatti siamo al canale a posto Arconte veniamo a noi adesso io ho bisogno poi avrai anche tu assolutamente lo spazio per raccontarci il tuo progetto da dove nasce quali sono le mire e come sta procedendo però io adesso voglio il tuo parere su quella che può essere l'evoluzione di l'orcana l'orcana fin dove arriverà quali sono le tue idee cosa che cosa hai pensato una volta che disney ha fatto questo annuncio insieme a ravenzburger e qual è attualmente la risposta della community poi risponderò anche ad ivan per quanto riguarda la mia esperienza che ne ho una da raccontare che ha fatto davvero davvero male comunque per quanto riguarda come diceva anche danino prima io sono oramai 30 anni che sto dietro quasi 30 anni che sto dietro ho iniziato nel 95 con fallen empire che è il quarto set di magic quindi capite anche voi che insomma è da un po' di tempo che sto dietro ai giochi di carte collezionabili li ho letteralmente giocati non dico tutti perché si parla di più di 500 giochi di carte collezionabili e giocarli tutti sarebbe pressoché impossibile ma mi ricordo che ce l'ho ancora tutt'oggi un mazzo di hercules di kevin sorbo ma the legendary journey è roba proprio di da da museo e per quanto poi riguarda tanino che diceva antique tutti questi giochi straordinari world of warcraft il miglior gioco in assoluto peccato che poi come hai detto tu ha fatto spazio a alla versione digitale del gioco che poi è diventata airson comunque rispondendo piccolo preambolo rispondendo a mario di giochi ne ho visti tantissimi e posso garantire a chiunque voglia iniziare a prendere in considerazione l'orcana come o gioco o investimento o entrambi che la salute del gioco si vede dal quarto set in poi i primi quattro set per quanto mi riguarda sono i set le espansioni che creano le fondamenta forti del gioco dove poi si sviluppa tutto quanto quindi se dal quarto set già iniziano ad esserci diversi archetipi di deck che non sono un sasso forbice carta ma comunque si danno battaglia equamente tra di loro ad esempio in one piece al momento nel meta sono quattro cinque quattro cinque i deck che spadroneggiano più di tutti che sono per l'appunto sagazuki enel barba bianca zoro e chi più ne ha più fidiola insomma ce ne sono in l'orcana invece c'è la fortuna di avere una combinazione di inchiostri che è pressoché infinita perché comunque se tu vuoi crearti un deck poi ivana e tanino mi potranno correggere perché sono più lato collezionismo personalmente che lato giocatore se tu comunque vuoi crearti un deck mono inchiostro puoi farlo senza problemi quindi tu comunque hai la possibilità di non mescolare i vari inchiostri e farti un mazzo mono viola mono amethyst mono rubi mono quello che c'è insomma e poi se hai la possibilità magari di recuperare delle carte e questo è stato magari il il fattore scatenante che ha più spinto verso il collezionismo che verso il gioco ed è stata per l'appunto la la scarsità di di carte all'inizio e si sa dove c'è scarsità si annita al collezionismo è sempre stato così eh adesso con le varie ristampe rispondendo anche a Ivan che c'è la possibilità di ehm distinguere la il primo set dalla ristampa perché la ristampa porta anche correggetemi se sbaglio anche l'errata e quindi ovviamente eh errata uguale versione nuova non errata uguale versione tradizionale e quindi acquisisce anche un valore completamente diverso agli occhi di un investitore che magari vuole investire nel set nel primissimo set di l'orcana dove le errata non sono presenti a differenza magari di un set dove le errata sono più stampate quindi più disponibili al mercato e automaticamente come dicevo prima dove non c'è scarsità non si annida il collezionismo e quindi c'è la possibilità di spendere anche meno per riuscire a portarsi a casa gli elementi che servono per costruire un mazzo quindi dico di investire sì andarci piano perché non bisogna comunque eh sfociare nella nella ludopatia nel gioco d'azzardo perché poi uno dice sì ci punto tutto e poi magari come Wizard of Mickey il gioco svanisce e lì sia chiaro Wizard of Mickey e Disney punto e basta e là poi iniziano i guai seri si sta vedendo il gonfiamento dei prezzi per quanto riguarda One Piece la cosa mi preoccupa e non poco soprattutto perché carte che stanno spopolando nel meta giapponese nel meta asiatico eh cinese quello che è eh poi inevitabilmente qui in Europa o negli altri stati dove si giocano le carte in inglese non vengono giocate quindi acquisiscono valore la gente l'acquista e poi si tutto si riduce in un nulla di fatto e probabilmente bisognerà tenere d'occhio anche i vari meta che fortunatamente la cosa buona è che l'orcana quando esce in un posto esce praticamente in tutti gli altri posti non c'è un meta che si sviluppa prima in un luogo e poi in un altro e questo ovviamente si traduce nella potenza nella capillarità di Ravensburger affiancata a Disney Disney è internazionale Ravensburger è internazionale chi non ha mai fatto un puzzle in vita sua o giocato a un gioco di da tavolo in vita sua e quindi la la capacità la possibilità di poter avere un meta unificato a differenza di One Piece dove ci sono due meta asiatico ed europeo statunitense e quant'altro sicuramente aiuterà il gioco a crescere in modo molto più sano rispetto a un One Piece ripeto ancora una volta dove i giapponesi hanno un loro stile di gioco che non rispecchia assolutamente quello degli europei quindi quello che posso dire a chi sta guardando in questo momento la diretta ed è interessato dall'Organa investiteci andateci con i piedi di piombo e dal quarto set in poi avrete se avete eseguito in modo oculato ogni singolo consiglio che potete trovare sul mio canale sul canale di l'Organa Lab e su qualsiasi altro canale che tratta di l'Organa in Italia vi ritroverete con i primi quattro set che potranno un giorno anche se non ci saranno inciante dall'interno valere una piccola fortuna. Beh in effetti l'altra sera ieri sera sì ieri sera con un amico ci siamo divisi un box abbiamo abbiamo aperto dodici bustine a testa nella speranza di beccare qualcosa di interessante abbiamo visto io sono riuscito a trovare tre leggendari e lui due eravamo abbastanza contenti la percentuale che ci ha soddisfatto ma al di là di queste esperienze personali che lasciano un po' il tempo che trovano la domanda successiva qui siete liberi di intervenire nell'ordine che volete e nelle modalità che volete è la seguente ma noi compriamo acquistiamo però a me effettivamente manca quel passaggio dell'andare poi a giocare dov'è che si stanno venendo a costruire i primi tornei adesso chiaro Gaetano ha partecipato già a uno almeno è quello che di cui più si è parlato perché avevo anche degli amici che sono andati a partecipare però stamattina spinto dalla curiosità dell'aver costruito un primo mazzo ieri sera da appunto un giallo verde che gioca molto sulle carte scartate ho detto ma se io volessi adesso dove vado a giocare dov'è che trovo una lista dei posti i luoghi e quant'altro come come può funzionare questa situazione forse sono io che sono manchevole lacunoso nel riuscire a rintracciare queste informazioni o effettivamente c'è un sottobosco al momento prego siete liberi di andare parola ai giocatori ivano ti lascio la parola a te non state timidi ok ok sto aspettando che allora sul discorso che hai fatto è perfettamente corretto perché la più grande difficoltà attualmente che un giocatore ha di parlando di l'orcana è proprio dove vado a giocare tolto i simulatori online quindi quella parte un pochettino videoludica che non ti fa respirare il dopo non ti fa sentire le emozioni che ti può dare il cartaceo l'orcana è partita molto forte per quanto riguarda pre release e release quindi l'uscita delle varie edizioni nei singoli giorni prima del commercio retail in linea generale ma i grandi tornei che si fanno sono molto lontani è giusto perché i tornei grandi vanno organizzati per bene bisogna trovare la città adatta il posto e insomma tutte queste serie di cose che sono molto importanti ma sui local c'è stata una sorta di timidezza parlo di timidezza perché non voglio dire un'altra parola ma molti negozianti sono molto saturi almeno in italia di giochi di carte collezionabili noi viviamo una città che lo possiamo dire lo sono tutti è milano e per quanto riguarda questa città sono sovraccarichi di giocatori di pokemon one piece magic l'orcana yugioh cioè l'orcana dovrebbe essere circa il quinto mettici anche che il prodotto attualmente si sta ripopolando ma all'inizio ha avuto una sorta di ingoffamento nel partire è chiaro che questa cosa di giocare dal vivo è venuta a mancare noi stiamo cercando di premere chiunque per incontrarci per giocare per cambiare del canale noi siamo giocatori e cerchiamo di creare dei collegamenti anche solo per testare dal vivo perché poi dal vivo è differente noi speriamo che con la terza espansione quindi con la season 3 con il grande torneo che ci sarà a febbraio con le nostre dirette speriamo di coinvolgere anche i local nel creare tornei settimanali cioè frequenti comunque ci sono le le leghe le leghe sono delle tappe che si fanno una volta a settimana di un giorno x dove tutti i giocatori partecipano al momento la community comunque si sta sta girando intorno a una giornata settimana dove possono giocare è un discorso di avviamento perché comunque l'orcana non è partita con la linea dritta serena no ha trovato delle salite molto interessanti ricordiamo che anche ravesburger non aveva aveva detto che non aveva intenzione di produrre per l'italia quindi in italia almeno c'è questo tentennamento nel far partire il gioco comunque se vuoi noi sappiamo dove si può giocare ogni sabato ogni giovedì ci sono le location scusa ti interrompo su questa cosa perché secondo te questa questa scelta di cosa scusami nel fatto di dire l'italia non è un mercato nel quale voglia dove non è un mercato che vogliamo aggredire questo me lo sono chiesto anche io io credo che correggetemi sbaglio perché sono un po ignorante su questo fatto tanti altri tgc tolto magari one piece un po tutti avevano già lingua italiana di partenza forse hanno deciso di far partire il prodotto in inglese in tutto il mondo e chiaramente tedesco e francese per me lo sono sempre chiesto perché l'italiano forse vedevano tramite i loro dati che l'italia è un giocatore di magic di pokemon quindi magari hanno visto una fetta interessante e forse disposti a commercializzare in realtà non ti so dare una risposta precisa io potrei aggiungere che secondo me per le mie esperienze quindi sto parlando da appassionato e non da conoscitore da cultore da io ho guardato sempre grazie al conte facciamo diciamo questa cosa qua mi sto appassionando purtroppo malamente ne piangerò io ne piangerò tutto ciò che è stato da me di flash and blood e flash and blood è l'esempio lampante di un gioco spettacolare che sta avendo poca fortuna secondo me il discorso è che in italia abbiamo tanti ottimi giocatori abbiamo dei circuiti giocatori veramente forti competitivi e magic secondo me i giocatori di magic che potrebbero fare scuola non solo in europa ma al mondo però purtroppo a livello di e l'ho visto io anche in torneo ufficiale forti la maggior parte dei giocatori si ritrovano a guardare il tavolo per vedere questa carta cosa fa c'è sembra quasi come se effettivamente non è che veniamo snobbati come nazione di giocatori ma che siamo poco appetibili come come clienti ora per fortuna dati alla mano perché adesso i dati ci sono anche il torneo grandissimo che c'è stato in italia che è stato ricordiamo c'è stato forse fino a quel momento il più grande europa se non del mondo a livello di numero di giocatori sotto natale il 23 di dicembre signori miei c'erano anche giocatori stranieri fa capire che allora un attimo forse si è sbagliato e che se in italia c'è tutta questa questa salute del gioco nei giocatori giocatori che io vedevo tappetini di qualunque altro genere di gioco di carte ho visto persone che venivano tappeti di world of warcraft di magic di flash and blood quindi dico allora c'è l'interesse universale di qualunque giocatore possibile la competizione era bella alta i prodotti sono tornati anzi addirittura questo passatemi il termine lo passi indietro ma questo rivedere i piani a fare anche un'uscita in italiano porterà ulteriore gente ad avvicinarsi al gioco secondo me è proprio questo non ripeto non ho conoscenza ma di come l'ho letta io personalmente non erano interessati all'idea che l'italia potesse essere interessata a questo prodotto per carità poi le motivazioni sono differenti e non peccato perché ripeto giocatori ne abbiamo davvero forti in ogni poi a roma soprattutto delle conoscenze a roma su flash and blood mamma mia ci sono dei giocatori incredibili fortissimi tra cui mi ricordo e forse c'era anche un ha fatto un top 8 in europa daniele daniele trattarelli grandissimo giocatore che lo seguo io gioco a tutto online soprattutto quindi se cerco di seguire tutto e ringraziamo anche l'arconte che mi dà il buongiorno con i suoi video quando guardo appunto i contenuti tengo informato quindi poi una piccola nota signor conte si è accorta su wizard of mickey si era disney però il gioco io l'ho giocato per divertimento ma era troppo semplice era proprio un gioco chiamalo gioco di carte secondo me era più veramente un enti leve per qualcuno che volesse cercare qualcosa di un pochettino leggero era quasi un villanus era più un gioco da tavolo una collezione secondo me per questo vero non è andato a morire non c'era una vera strategia mentre poi il mio socio sicuramente parlerà anche delle rec list del meta quasi sta parlando secondo secondo me c'è varia età c'è c'è risposta dal pubblico l'enchant ed è una bell'idea perché sì non ci sono le prime edizioni le seconde edizioni ma comunque l'enchant portano collezionismo cioè ok le carte non esploderanno a livello di costi però l'enchant e ne rimarranno delle delle chicche delle pietre preziose da oggi alla fine del gioco secondo me quindi va ad accontentare sia chi vuole giocare che ha prodotti all'infinito sia chi vuole collezionare e investire piuttosto non comprarti le carte compra le singole enchant e ti porti e ti fai un album di questi di questi tesori certo Ivan scusaci io ti ho interrotto sono entrato a gamba tesa con una parentesi ma tu stavi chiudendo la questione invece del giocare di persona di presenza stavi dicendo che vi state anche impegnando per far sì che ci sia un appuntamento fisso quindi riprendi pure il discorso si guarda sarò sintetico così anche l'arconte può dire la sua su quell'altra domanda lì e sì noi ci stiamo impegnando per cercare di creare un appuntamento fisso comunque nella nostra regione di residenza ma ci per cercare anche di sponsorizzare altri tornei infatti noi facciamo affiliati insieme cioè collaboriamo con l'organe l'italia che è una grandissima realtà discord e anche di giocatori e di judge per creare anche dei local settimanali questa cosa è molto complicata perché comunque io teniamo beh apriamo su turni eccetera eccetera ma cerchiamo di spingerla perché se non lo facciamo noi Ravesburger è un po' indietro sotto questo punto di vista sicuramente è rimasta spiazzata dalla enorme risposta che ha avuto e diamo una mano sotto questo punto di vista secondo me comunque tornare al discorso italia loro guardano quante persone hanno disney plus visto che l'italia ha pochissimi abbonamenti su disney plus hanno deciso di accantonarla un attimo può essere una strategia interessante questo può essere una buona chiave di lettura arconte a te la parola per quanto riguarda questo non voler aggredire in maniera così eccessiva e corposa il mercato italiano anche secondo me correggimi se sbaglio in questa affermazione ma anche il fatto di non aver tradotto i primi due set in italiano è un sintomo di questa cosa no adesso il terzo forse sarà figlio del fatto che hanno visto che c'è fermento dobbiamo non dobbiamo ragionare come dei giocatori dobbiamo ragionare come una ditta che deve assolutamente fatturare altrimenti il prodotto va a morire perché la francia e la germania sì mentre l'italia no dobbiamo prendere in considerazione altri due fattori francia e germania sono la patria di due colossi dei giochi di carte collezionabili e tutto ciò che gli orbita attorno che sono per quanto riguarda la germania car trader car market chiedo scusa che ha sede a berlino e il colosso francese che è asmodè dove ovviamente poi ci gira anche blackfire e tutto il resto ok la game genica ad esempio che produce i migliori per quanto mi riguarda li ho testati ci collaboro quindi sarò anche di parte però che genera i migliori accessori per i giochi di carte collezionabili a mani basse si trova in francia ad esempio quindi probabilmente c'è anche la possibilità che si siano presi accordi a monte che hanno visto tradurre il gioco anche in queste zone qui poi calcoliamo che anche la densità di popolazione è completamente diversa perché in germania e in francia ci sono molte più persone rispetto all'italia e l'italia è presa in considerazione come sempre come fanalino di coda ma non per il prodotto di per sé perché noi principalmente siamo collezionisti calcolate che per quanto riguarda pokemon le carte italiane vengono molto di più rispetto a quelle giapponesi per farvi capire l'importanza del mercato del collezionismo italiano nel mondo noi siamo persone che collezionano i francobolli l'italiano per antonomasia è un collezionista ok e quindi abbiamo dato un segnale come dicevano anche i signori di l'orcana lab sia ivan che tanino abbiamo dato un segnale molto forte con il got capre principesse organizzate da organizzato da fantasio store eh con il quale salutiamo i signori di fantasio store con i quali collaboriamo tutti quanti facciamo un po' di pubblicità anche a loro e e lì si è dato un segnale forte più di centosessanta giocatori se non mi sbaglio centosettanta non mi ricordo che comunque per un torneo iniziale sotto natale il ventitretti dicembre quindi il giorno prima della vigilia è un segnale molto molto forte e probabilmente già c'era l'idea di eh tradurre il gioco in italiano perché loro hanno dati che a noi non è non è concesso vedere quindi hanno visto che l'italiano comunque prende acquista perché ripeto per quale motivo l'orcana è andato fortissimo subito perché si basa sul fatto che disney è prettamente collezionismo vediamo tantissime persone che collezionano peluche della disney vanno a disneyland perché trovano degli articoli solo lì a disney per non tacere ovviamente dei classici disney che sono la punta di diamante del collezionismo per quanto riguarda la disney per l'appunto e l'orcana che cosa ha fatto ha riproposto gli eroi disney come primissimo scoglio da dover affrontare e ovviamente la gente ci si io in primis ci si è scontrata pesantemente avendo buchi alle mani per quanti soldi sono usciti quindi è normale è normale che poi una persona dica ok mi interessa robin hood ad esempio io tiro con l'arco quindi mi piace robin hood e voglio tutte le versioni di robin hood come dicevi anche tu prima mario quindi poi il collezionismo si declina in diverse in diverse versioni c'è chi colleziona soltanto la carica dei 101 chi colleziona soltanto biancaneve chi vuole le miriadi di versioni di hercules e ade chi colleziona soltanto un classico perché io sono cresciuto con quel classico chi invece vuole il set tradizionale come il sottoscritto chi vuole il master set chi vuole soltanto l'enchanted e chi più ne ha più ne metta e ogni forma di collezionismo va bene a modo suo quindi probabilmente vedendo già i primi dati che loro hanno avuto alla mano e hanno consultato hanno visto che l'italia comunque va forte e hanno detto ok dal terzo set magari iniziamo già si vociferava che dal terzo quarto set ci sarebbe stata una traduzione se il gioco fosse sopravvissuto e non è che è sopravvissuto ha spaccato letteralmente il mercato perché secondo soltanto a one piece al suo p05 che sarebbe il quinto set a waking of new era che ha letteralmente registrato e battuto ogni singolo record a livello di prevendite calcolate che non hanno toccato minimamente i tavoli da gioco i box e vengono venduti i singoli booster pack a uno per persona in determinati posti proprio perché c'è una scarsità che non si è mai vista in un gioco di carte collezionabili poi va bene c'è il fatto che abbiamo visto l'u figure five c'è il fatto che siamo entrati nell'arco finale c'è il fatto che adesso tutto quello che volete ma l'orcana segue a ruota ed è un gioco molto 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 giovane è un gioco molto giovane quindi che dire continuando a a parlare di questo di questo fattore bisognerà soltanto aspettare che la ramezburger vada verso più acque che accontentano anche i collezionisti perché il primo set è stato un po' vergognoso devo dire la verità a livello di packaging non ha sicuramente rispettato le esigenze dei collezionisti che vogliono la pellicola perché la pellicola è uguale sild punto c'è niente da fare e soprattutto insomma un prodotto che non ha una pellicola si rovina molto più velocemente quindi nel tempo presenta delle imperfezioni che se non lo inserisci subito all'interno di una teca come quella lì di plexiglass insomma hai un danno economico non indifferente se poi il prodotto arriva in a nelle tra le mani di un collezionista che vuole il prodotto perfetto e non non lo ha perfetto questo è quindi se migliora anche quel quel settore sono sicuro che il gioco attirerà molte molte più persone io aggiungo anche che alla milan games week mi sono lasciato sedurre da da questo box all'interno del quale c'erano un bel po' di di bustine ma soprattutto era una scatola abbastanza simpatica diciamolo e aveva all'interno due portamazzi e siccome ero in cerca di qualcosa del genere mi sono affiondato a comprarla i portamazzi probabilmente sono i pezzi di cartone più brutti che abbia mai fatto entrare in casa mia e quindi ci sono rimasto abbastanza male ecco anche perché non si possono utilizzare non sono riuscito a dar loro la forma giusta e quindi è stato un acquisto inutile è stato è un peccato però capite perché sì il portacarte è utile è buono le tengo tutte lì dentro in attesa di comprare dei portamazzi veri però ho fatto un acquisto che mi ha restituito cosa un prodotto un po' cheap ed è un peccato ripeto perché poi trovi la carta che può avere il suo valore io ho un amico che si è fatto gradare anche un mickey mouse nonostante fosse in tedesco quindi insomma sta già partendo tutta questa situazione però nel frattempo mi fai dei prodotti un po' cheap io che voglio spendere magari a prendere un qualcosa di unico di bello brandizzato rimango un po' deluso ecco quindi secondo me anche su questo bisognerebbe un attimo ragionare ed evitare di sparare un po' sulla folla e pensare che siccome è un prodotto disney viene acquistato così giusto per e che invece non so sottovalutare magari la possibile presenza di una community perché se adesso voglio andare a giocare e incontrare il tanino di turno non mi posso presentare col portamazzi di cartone brutto con che figura ci faccio mi guarda e mi dice questo non sa manco che fanno le carte che c'è nel mazzo e quindi tanto vale che me ne sto a casa interrompo scusa calcolando il costo che ha un illuminer strove perché sicuramente di quello stai parlando e poi aggiungerò di solito chi si presenta con l'elastico alle carte poi è veramente veramente forte non dobbiamo ti devi preoccupare di quelli che vengono e ti dicono ma non ce l'hai il play ma se no non ce l'ho e poi con l'elastico e senza nemmeno le sleeve attorno alle carte proprio invincibile esatto quello a rafael di yugio nella serie dell'orical cosa che c'era le carte mamma mia quelli sono i più buoni quello praticamente è exodia come arriva lo mette mette quelle carte con l'elastico l'elastico gli vale come exodia vinto e basta è già vincitore morale sì quello fa ti crea i crateri come gli eroi che diventano super forti appena si siede ti mette a disagio solo quello quindi dici va bene ok perfetto quindi ragazzi adesso torniamo sempre sul discorso del del giocare dal vivo io so anche se è un'informazione che probabilmente voi adesso darete in maniera più certa che si sta comunque già iniziando a ragionare su quello che sarà un mondiale di l'orcana che dovrebbe essere nel 2025 capito bene corretto corretto quindi insomma immagino che siccome siamo già nel 2024 si muoverà qualcosa nell'immediato quindi inizieremo ad avere dei tornei ufficiali inizieremo ad avere degli appuntamenti un calendario ci saranno anche delle qualifiche che bisognerà fare in qualche modo non so se ci sono già queste informazioni o se invece ancora tutto un parlay no allora al momento ci sono è uscita ieri credo se mi sembra ieri l'annuncio del competitivo ma oltre al competitivo l'orcana ha inserito anche un circuito diciamo così di avviamento per insegnare i giocatori neofiti come si gioca all'orcana quel circuito chiaramente serve solo per far crescere la community anche per il più no sul momento proprio sul sull'informazione fondamentale poter far collocare le due cose su un punto solo detto questo niente tanino mi sa che devi raccogliere la staffetta e andare al posto suo mi sa di sì mi sa di sì più che altro voglio va bene fondamentalmente come diceva il mio socio sì ci saranno direttamente delle tappe ci saranno dei vari circuiti le vai di tornei dove in questi tornei di quello che abbiamo capito perché l'informazione è uscita ieri ed è uscita con una meravigliosa gigantografia di stich che ci saranno anche dei premi proprio per chi vincere a questi determinati eventi creando anche un come one piece creando effettivamente un competitivo sensato con dei premi esclusivi di quel determinato tipo di torneo quindi ci sarà un'identità competitiva seria e questo farà crescere secondo me solo di più il la batteria di giocatori che vorranno anche solo partecipare per vincere questa carta ma oltre questo ci sarà anche il fatto che i primi quattro giocatori di ogni tappa per la qualificazione di del proprio nazionale parteciperà poi come nei giochi più eh famosi che la preceduta in contesti di tornei poi c'è europei e poi ci sarà un vero e proprio mondiale di quello che si è capito fondamentalmente ieri che ci sarà il duemilaventicinque poi sul percorso quello dei neofiti eccolo perdonatemi perdonatemi non devi emozionarti davanti 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 parli di neofiti soprattutto non ti devi emozionare è vero mi sento chiamato in caso io ho fatto un pochettino la simulatrice ha lanciato delle palline ho fatto un trattenuto più pubblico però sì sì perdonatemi vabbè comunque dal 24 maggio 2024 dovrebbero partire già le mie comunicazioni di regolamento competitivo dovrebbero partire i nazionali la dico la metto larga per far capire ma è ben più complesso e per ogni nazione i primi due vincitori non solo tengono dei premi molto forti riguardante anche delle promo enchanted uniche nel loro genere ma poi si va a fare gli europei si fanno gli europei e i torni americani da lì poi viene selezionato il pass per il mondiale 2025 ma questo dobbiamo preparare ci dobbiamo allenare arconte siccome siamo praticamente in chiusura io ti dovevo uno spazio per raccontarci un po il progetto e le attività che girano intorno all'arconte anche perché abbiamo passato questi 50 minuti a ripetere tutti quanti io ti ho detto prima off the records che ho imparato a giocare all'organa grazie al video nel quale hai spiegato le regole canino ti sta dicendo che c'è il video del buongiorno che è sempre lì per ascoltarti su quello che stai dicendo ci racconti adesso anche per chi ascolterà e vuole capire chi è l'arconte magari non lo sa che cosa fai tu che cosa faccio io che cosa faccio io è una domanda è una domanda tra bocchetto è importante sono partito come indica anche il nome con chi forge rispondendo anche a divan alla domanda di prima della mia esperienza dopo il covid anzi durante il covid il gioco non ha non ha superato il test è andato in pausa è rimasto in pausa per tanto tempo adesso sta cercando di riprendere ma insomma i risultati tardano ad arrivare e quindi ho iniziato a pensare che dovevo evolvere il canale rivolgendomi a una nicchia in particolare ovvero quella dei nuovi giocatori e da lì ho iniziato a pensare il canale dell'arconte del crogiolo come un primo step dove ogni singolo appassionato o curioso dei giochi di carte collezionabili ha prodi per poter imparare diversi regolamenti quindi mi sentite ci siete si è si è frizzato tutto ho sentito vuoto comunque no tranquillo ti sentiamo dicevo ogni singolo appassionato o curioso di giochi di carte collezionabili che vuole magari imparare regolamenti vari dei giochi di carte può arrivare sul sul canale e vedere quello che io amo definire tcg meno di 20 minuti ovvero il regolamento spiegato in modo molto semplice in meno di 20 minuti dove si vanno per l'appunto ad illustrare anche attraverso degli esempi le varie dinamiche le varie meccaniche dei giochi di carte collezionabili che al momento stanno andando più forte e colgo l'occasione per dire che tra un paio di settimane arriverà il terzo dei grandi tre perché al momento sono presenti sul canale il video di one piece di cg meno di 20 minuti che è il più visto in italia quello di l'orcana in meno di 20 minuti in realtà sono 13 minuti ed è il più breve della storia al momento che comunque sta registrando un notevole numero di visualizzazioni c'è quello di pokemon quello di magic ma anche quello di yugioh quindi arriverà anche quello di yugioh per quanto riguarda questa sarà una bella impresa ma ci provo ci provo insomma se sono riuscito dopo 30 anni di storia a parlare in meno di 20 minuti di magic ci posso riuscire tranquillamente anche con yugioh quindi almeno per le basi poi ovviamente se se si se ci sarà interesse ad approfondire più il discorso lì mi fermo assolutamente quindi che cos'è in breve l'arconte del crogiolo è il canale dove ogni eh curioso o appassionato lo ripeto ancora una volta dei giochi di carte collezionabili può arrivare e mettersi a proprio agio guardando una persona che fa poco utilizzo di shampoo parlare di trading car game in modo semplice mi auguro anche attraverso delle guide che possono essere utili per eh migliorare la propria esperienza ludica in questo meraviglioso mondo allora ragazzi la cosa bella di pop talk è che io riesco a mascherare quelli che sono i miei interessi le mie curiosità con un format che tiscali game surf accetta di farmi fare quindi in realtà io ogni settimana becco delle cose che di cui magari so poco e per saperne di più dico va bene organizzo una puntata così posso fare un sacco di domande e quindi questo è il momento in cui finalmente io posso fare le domande ricevere le risposte che realmente mi servono perché voi siete qui stasera per dirmi ma se io voglio iniziare a giocare a milano all'orcana dove è che devo andare questa è l'unica cosa che mi interessava sapere stasera ovviamente scherzo regia stasera in realtà grande interesse per la divulgazione il racconto di disney l'orcana ma voglio sapere dove andare a giocare allora se se vuoi tanino diciamo tutti quelli che conosciamo perché giustamente e facciamo anche i nomi dei negozianti e i giorni senza scontentare nessuno se no poi sembra che non facciamo pubblicità non facciamo più pubblicità diciamo che quello più attivo è il labirinto se non erro vero tanino di giovedì dalle 9 e serale notturno mi sembra sì dalle 9 le fanno si porta il tuo costruito il tuo deck e paghi e giochi poi ci sta il sabato pomeriggio ma non sempre lo fa l'excalibur games anche se lui sta facendo la filosofia di riavviamento lui fa le pre release delle prime due edizioni ma ti dà tipo creso se bustine costruisce un deck quindi il siled oppure ti dà tipo tre mazzi tu costruisci il tuo deck comunque mazzi mischiando anche più di due in che giusto per far approcciare per far avviare anche una community poetino più besi queste sono le uniche due al momento che sono realmente attive poi tanino collegi mi sbaglio no no io non voglio fare il superbo però gioco davvero pochissimo fisico io mi prendo il buon ivan e testo con lui quindi non faccio lo prendo di pezzo ma non gioco tanto online però c'è fisico e sto giocando online da pochissimo da giusto una settimana che ho comprato un pc solo per giocarci diciamo che è sì 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 il primo vero torneo l'ho fatto al tono di fantasia store infatti nessuno ci chiede ma tipo avrò fatto una decina di partite di l'arcana prima di fare il torneo qui quindi io mi fido del mio socio sì è vero quello che dicevi è corretto io non sono di milano quindi non so cosa dire quindi vabbè proprio suggerirci dove andare a giocare nella tua città che non so quale sia arconte abbia pazienza l'aquila l'aquila io abito all'aquila ok all'aquila non c'è una community attiva al momento no non c'è una community attiva siamo solo collezionisti ma se si va verso le zone di chiedi pescara lì sicuramente qualcuno gioca dobbiamo crearla all'aquila siete benvenuti qui si sta benissimo qui si sta benissimo un po freddo ma si sta bene beh guarda non è che milano sia nota per il caldo soprattutto in questo periodo quindi beh non so la vostra minima non so quant'è però insomma ce la giochiamo guarda diffida da tanino che ha mezze maniche io sono una cosa a parte la minima voglia abbiamo raggiunto gli ultimi giorni abbiamo raggiunto meno sei allora alziamo le mani alziamo le mani perché abbiamo il gran sasso qui vicino ecco solo per questo hai ragione abbiamo il gran sasso vicino fa ombra molta ombra va bene ragazzi direi che abbiamo raccontato un po la situazione dell'orcana abbiamo trascorso quest'oretta insieme per cercare di delineare un po quella che è la situazione di questo fenomeno ci siamo detti che quindi con che dobbiamo aspettare almeno il quarto set per riuscire a capire se le cose scusate se le cose stanno andando bene o meno io mi auguro che possono andare benissimo anche perché col terzo set arriverà anche ducktales quindi io sono pronto con l'assegno da mille euro per acquistare qualcosa esista di ducktales spero facciano non lo so porta mazzi tappetini box set ma che ne so ma anche lo zaino brandizzato l'orcana ducktales compro tutto per fortuna mia moglie non ascolterà mai un problema un po di tutti però mi auguro che l'orcana possa effettivamente continuare a a fare belle cose che ravensburger possa effettivamente crederci e avere un ritorno importante così da poter dare supporto a un gioco che potenzialmente essendoci disney dietro come dicevamo anche prima quando disney fa le cose non le fa per perdere tempo da può diventare davvero un qualcosa di di grosso di importante è vero che disney nella sua storia recente ha deciso di chiudere in maniera anche abbastanza drastica alcune divisioni che non fatturavano tanto come è successo con i videogiochi però poi col tempo ha capito che cedere le proprie licenze a sviluppatori terzi è comunque un vantaggio ad esempio disney illusion island è stato un buon ritorno con una licenza ceduta a una software house terza quindi sicuramente è stato un qualcosa di interessante di valido quindi in bocca al lupo all'orcana in bocca al lupo a ravensburger voi continuate a seguire l'arconte ma anche l'orcana lab per restare sempre aggiornati su quelle che saranno le novità di l'orcana anche perché adesso ci prepariamo a entrare nel meta ci prepariamo anche a prepararci noi per il mondiale andremo tutti a fare il mondiale tutti e quattro se ci fanno entrare e poi insomma avremo modo di aggiornarci magari tra qualche mese per capire come effettivamente si sta sviluppando l'orcana io intanto preparo il mio mazzo e presto mi accingerò a sfidare tanino in uno degli eventi del sabato e perdere pesantemente ma almeno potrò dire che porta l'elastico va bene porto l'elastico colgo tutte le sleeves elastico mi presento con le 60 carte così queste sono le mie carte esatto mario posso spendere due parole poi ti lascio allora penso che possiamo posso parlare anche da metanino e forse anche dell'arconte noi non ti conoscevamo sì per youtube ma non di persona noi non ci siamo mai visti né sentiti forse siamo visti a bilano ma non lo so ti voglio ringraziare perché sei stata una persona molto genuina un host veramente educatissimo rispettoso e questa cosa per noi vuol dire che abbiamo speso bene il nostro tempo e tali noi siamo molto selettivi non diamo mai di più a chi non sono merita e tu sei stato veramente molto genuino e gentile e poi anche l'arconte che si è dimostrato un pozzo di sapere come ovviamente doveva essere e che è stato anche lui molto sportivo e anche molto interessante ascoltarlo al di fuori di un contesto preparato per youtube diciamo grazie davvero per me l'arconte una rock star ragazzi senza capelli non posso fare il gioco quello che i capelli che girano però sono sono completamente d'accordo con ivan e tanino grazie infinito e mario per aver invitato me per avermi dato la possibilità di condividere questa esperienza con i signori di l'orcana lab che per quanto mi riguarda sono il punto di riferimento fermo di l'orcana perché non non so se a livello proprio di contenuti ci sia qualcuno che al momento sia chiaro possa possa competere quindi congratulazioni ai signori congratulazioni a ivan congratulazioni a tanino per il lavoro che fanno congratulazioni a mario per a te quindi ti do del mi rivolgo direttamente a te grazie per questa questa live che è stata straordinaria davvero quindi grazie ancora per questa esperienza grazie ragazzi devo dire che in cinquantasei puntate è la prima volta che si chiude con gli ospiti che mi ringraziano in maniera lo apprezzo moltissimo siete siete stati più che gentili lo apprezzo davvero tanto e mi fa piacere insomma dopo aver mascherato la puntata dicendo che ero solo interessato ad avere queste informazioni posso dire che sono contento di ricevere questi complimenti grazie davvero grazie per chi ci ha ascoltato su spotify indifferita ricordo che l'appuntamento con pop talk è sempre giovedì sera dalle ventuno alle ventidue per chi ci ha seguito in diretta e all'urcato quelle che sono state le informazioni che abbiamo dato sull'orcana l'appuntamento anche per voi è sempre il giovedì dalle ventuno alle ventidue quindi l'appuntamento è la settimana prossima sempre qui con pop talk grazie e buonanotte signori buonanotte buonanotte buonanotte